Mi piacerebbe fare una foto con ciascuno di voi, ma lo capite da soli che diventa impossibile. Allora, per quanto riguarda quello che voi avete più a cuore, che è il mercato, voi dovete avere pazienza perché il mercato si chiude il 2 settembre. Quindi da qui al 2 settembre possono capitare tantissime cose e noi siamo a trattare con chiunque ci interessi, ma che sia corretto e giusto per il gioco, non per fare scena. È chiaro il ragionamento perché io non ho bisogno di avere più abbonamenti, ho bisogno di vincere. Per vincere bisogna usare la testa.